Il transito di un modesto vortice depressionario, colmo di aria fresca in quota, attraverserà le regioni centrosettentrionali della nostra penisola, con riflessi anche sulla Campania, dove avremo occasioni per rovesci anche temporaleschi, specie nella giornata di venerdì. Ne risentirà anche il campo termico, il quale subirà una moderata flessione con temperature che, tra sabato e domenica, si porteranno sui valori lievementi al di sotto della media stagionale. Per sabato 7 settembre, le previsioni meteo prevedono condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso ovunque, con possibilità di qualche isolato piovasco pomeridiano in rapida attenuazione nelle ore serali, temperature in ulteriore diminuzione, specie della serata, venti moderati, mediamente occidentali e mare mosso. Per domenica 8 settembre, invece, il cielo inizialmente sarà poco nuvoloso, con tendenza a moderato aumento della nuvolosità dal pomeriggio, con associati locali piovaschi sparsi, più probabili sul Cilento, temperature stazionarie con valori lievemente al di sotto della media del periodo, venti da deboli a moderati occidentali in ulteriore rinforzo dalla serata, mare mossi con moto ondoso in aumento dal pomeriggio sera. Per quanto riguarda invece la tendenza della prossima settimana, si prevede un ulteriore rinforzo dell'alta pressione in pieno Oceano Atlantico, che favorirà la discesa dalle isole britanniche di un nucleo di aria relativamente fredda. L'entrata sul Mediterraneo dovrebbe avvenire dalla Valle del Rodano, favorendo il richiamo di intense correnti di libeccio sui mari di Ponente, quale preludio di un possibile e sensibile peggioramento su tutta la nostra penisola, a partire dal pomeriggio sera di martedì 10 settembre, peggioramento a carattere autunnale che sancirebbe così il passaggio di consegne tra l'estate e l'autunno. Ma per maggiori dettagli invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito internet www.meteosette.it.